3, 2, 1... No, no, eh... Ragazzi, questa entra di diritto nella carta più bella che io abbia mai trovato dei Pokémon. Questa è la mia carta di Charizard che più vale di tutti, oltre a quella della prima edizione, un Mega Charizard X. E se non prenderemo tutte le carte all'interno di questo pacchetto, all'interno della Pixelmon, sarò costretto a regalarlo a Marci. Quindi, campioncini, benvenuti e bentornati! Questo pacchetto è un altro di quei pacchetti speciali per cui ho speso tantissimi soldi dove all'interno troveremo delle carte molto importanti da cercare all'interno della Pixelmon. Come sempre, check, antitruffa, sembra molto sigillato bene... Urca qua? No, pensavo fosse aperto, verrà la linguetta. No, è chiuso tanto bene questo pacchetto custom. Come funziona? In questo sito della Pixelmon si possono comprare questi pacchetti nelle lingue in cui si vogliono delle carte. E all'interno ci sono dei Pokémon, delle carte appunto, che saranno nella versione speciale nel mondo che loro ti rilasciano in download, dove c'è più possibilità di spawn di Pokémon speciali. All'interno però si trovano delle carte molto, 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 molto rare. Quindi, dobbiamo capire cosa abbiamo comprato per un prezzo comunque molto, molto, molto costoso. E solitamente ci riguadagniamo di solito, quindi andiamo a scoprire cosa abbiamo qua dentro. Solitamente sono anche già ben organizzate, già divise e abbiamo tantissime carte. L'ultima mi sembra bella ruvidina, quindi sarà un'altra bella carta che varrà tanto. Adesso, prime tre carte. Quali Pokémon abbiamo trovato? Urca? Allora, Altaria, Bevere, Disy e Arcanine. Quindi il primo round andremo già a cercare queste tre carte in sei minuti. E andiamo a cercare Altaria, Bribery e Arcanine, però nelle loro forme speciali. Adesso, tecnicamente, dobbiamo cercare la Birch Forest, che è questa qua, e anche il deserto per l'Arcanine. Si è bloccato tutto quanto gioco, molto interessante. Quindi dobbiamo cercare, innanzitutto, l'Altaria, che è già vicino in questo bioma. Quindi aspettiamo un attimino. Abbiamo tre Pokémon, quindi sei minuti anche nel secondo round. Sei minuti, invece per l'ultimo round, che forse sono meno carte, abbiamo meno tempo. Però cerchiamo un attimo di vedere, perché Altaria dovrebbe spawnare sopra le foglie. Quindi in realtà ho bisogno di salire sopra con l'Elytra. E dovrebbe anche arrivare il giorno, perché di giorno abbiamo più possibilità che spawni Altaria. Questo però è un Bribery, però che non è Disy. È un po' un peccatino, perché a noi serve direttamente quello di Disy. Invece questo qua è quello normale, è un po' un peccato. Però non possiamo catturarlo e stanno spawnando pochissimi Pokémon in volo. Tranne questo Larvesta, che è un pochino inutile. L'Enfanto c'è il Bribery di prima. E secondo che tra un po' appunto sta arrivando il giorno, dovrebbero spawnare più poco. Infatti altri Larvesta. Attendiamo, perché se no non posso prendere nient'altro. Ci sono altre coccinelle che volano. È un po' un problema, perché abbiamo tre Pokémon e ne stanno spawnando pochissimi. Ma anche Altaria me l'ha spawnato normale. Perché, dannazione? Uh, però questo è diverso. Questa è la forma diversa di Altaria, che mi voleva anche aggrare. Grazie mille, Altaria si è molto, molto comodo. Primo Pokémon andato, Altaria preso. Adesso il Bribery abbiamo visto che spawna anche lui nella zona delle Birch. Quindi attendiamo un pochino. Sarà già passato più o meno un tre minuti. Però, uh, là in fondo anche uno Swablo è spawnato. Eh, eh, non ci servono più ragazzi, perché tanto li abbiamo già presi entrambi. Quindi attendiamo anche il Bribery, che dovrebbe spawnare più o meno in questa zona. Ricordiamoci che possiamo al massimo, in tutta la sfida, perdere solo due Pokémon. Sennò sarò costretto a regalare il Charizard Mega X a marce. E sono tanti soldi, oltre alle carte che ho comprato. Questo è un Bribery di Isui, però. Questo è un Bribery di Isui, che è incastrato sotto le foglie. No, eh, Bribery, l'abbiamo preso? Preso! Perfetto, 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 perfetto. Adesso dobbiamo però cercare un deserto. Noi abbiamo un po' della mappa da esplorare da questo lato. Abbiamo catturato il nostro Bribery. Quindi due carte sono andate, il nostro altare e il nostro Bribery. Adesso dobbiamo un attimino, però, muoverci verso non so quale direzione. Non so quanto tempo abbiamo, ma Arcanine, credo che sia nella sua versione Shadow. Qua c'è un Ride, che in questo momento non ci interessa. Da andare a prendere. Quindi, assolutamente deserto. Questo sembra un deserto, ma è molto piccolo, perché è praticamente tra Extreme Hills e Savana. Quindi, in realtà, per noi è un po' più fortunata come situazione. Anche se, in realtà, Arcanine più o meno spona nel limite, appunto, tra Savana e l'eserto. Quindi dovremo un attimino attendere in queste zone qua in mezzo. E attendere che inizia a caricare un po' di Chunk per sponare i Pokémon. Qua c'è un Tarkle, in fondo prende fuoco un po' tutto quanto. Sono sponati quattro Starly, uno insieme all'altro. Il che è un po' fortunato. Questo qua è un Pokémon un po' stranino. Stonejourner. Va bene, credo che sia dell'ultima generazione che non conosco più. No! Arcanine base sponato. E a noi ci serviva l'altra versione, invece, che credo di averla vista forse solo una volta nella mia serie. Quindi, vabbè, aspettiamo un pochino e vediamo un attimo se troviamo qualcosa in questo... Forse è nel deserto. C'è più possibilità che sponi l'altra versione dell'Arcanine. Però dovrebbe essere un Bioma Com... Un Bioma Comodo! Ecco... Ma è bellissimo! Ma tu quanto sei bello! Non ti voglio nella mia serie principale, ma sei di una bellezza assurda! Prendiamolo! Tre carte su te! Abbiamo rischiato molto con l'Arcanine, ma ce l'abbiamo fatta. Secondo giro delle carte. Secondo round. Però questa qui dovrebbe essere, infatti, è un allenatore, Spino, che non ci interessa più di tanto. Poi, abbiamo altre tre carte. Adesso, uno alla volta. Quindi, il secondo round, altre tre carte, altri sei minuti per cercare i Pokémon. Abbiamo Porigon Zeta! Urca! Questo già è un Pokémon raro di suone la Pixelmon. Porigon Zeta sarà difficilissimo! Vabbè, il primo è andato. Lo lasciamo direttamente qua sotto. La seconda carta è un Zoro Adisui! Questo va cercato nell'ultra dimensione, mi sa. Quindi dobbiamo anche cercare un portale a entrarci. Bene, sarà una sfida tossissima oggi. E questa qui, vediamo cos'è. È un Turtwig. Che però speciale non esiste, ma esiste la sua versione Shadow del Tor Terra. Quindi dobbiamo cercare il Tor Terra Shadow nel secondo round. Andiamo. E sono curioso di vedere quale sarà l'ultima carta del terzo round. Altri sei minuti! Eravamo fermi qua nel deserto per aver preso l'ultimo Arcanine della sfida di prima. Dobbiamo andare innanzitutto in questa zona... Uh, bella sto Bioma! Con tutte quante queste foreste. Stiamo trovando comunque Biome abbastanza comodi. Perché tecnicamente il nostro Turtwig, che in realtà lo dobbiamo cercare sotto forma di Shadow in Tor Terra, dovrebbe spawnare nelle Plains che sono in questo piccolo angolino qua di verde che è diverso. Questo rispetto a quello che è un po' più verde, ancora più vivace rispetto a questo qua. Quindi potremmo attendere che ci spawni qua in realtà. Perché essendo che questo qui è piccolissimo come Bioma delle Plains, siamo super fortunati perché là abbiamo una savana. Di là la savana plateau, altra savana, birch di là. E poi... Ma siamo fortunatissimi, bellissima questa cosa. Però pochi Pokémon stanno spawnando. A parte i Pokémon volanti che noto che ne stanno spawnando tantissimi. Abbiamo uno Scovette che non ci interessa. No, Turtwig. Tu o mi servi nella versione quella Shadow, o in realtà a me serve Tor Terra, perché io dubito che ci sia proprio un vero e proprio Turtwig nella versione Shadow. Vabbè, attendiamo, magari ci spawno il Tor Terra. Che però non vuole praticamente tornare, ragazzi. Non ci spawno nessuno, c'è un Teilo. È un po' problematico perché a questo punto mi sa che mi conviene spostarmi, cercare un portale dell'ultra dimensione per andare a cercare il Porico. Anche quello è tostissimo. E anche lo Zorua di Isui, che spawnano entrambi nella ultradimensione. Va bene. Uh, invece no! Tor Terra! Che nella sua versione Shadow è stra-arrabbi. Io lo chiamo Shadow perché credo che sia la versione Shadow, poi non so se è veramente una versione Shadow. Comunque è una versione speciale del Pokémon in sé. Quindi, molto carino. Dato che però non abbiamo molto tempo per analizzarlo, direi, andiamo a cercare un portale della... Aiuto! Portale dell'ultra dimensione. E lo analizzeremo magari a fine video, o durante la mia serie principale. Siamo nell'ultradimensione. Quindi, dobbiamo cercare un attimo di capire che con l'Elytra è un po' problematico volare, perché vogliamo forse troppo. Abbiamo subito qua un Dungeon del Ride, in questo bioma diossidiana, che è particolare, perché vogliamo tantissimo con l'Elytra. Adesso stiamo svolando forse un po' troppo, perché andiamo ad andare a terra subitissimo. Carina come cosa. Però, non è il momento adesso. Voglio un nuovo spazio che non ci interessa. Io sono morto là in fondo quando. È il problema che mi stanno spawnando un sacco di Porygon. Ma base! E non posso mai uscire dalle battaglie... Dove mi ha sparato? No, devo togliermi l'Elytra. Devo assolutamente togliere l'Elytra, perché sono pericolose. Qua c'è un altro Porygon, un altro Porygon ancora. È un problema. È un grande problema, perché appunto con l'Elytra non posso svolazzare questo. Questo è un Porygon! È nella versione speciale! L'abbiamo visto lì, Porygon Z. Quello è quello base, e questo è quello speciale, che non so in che versione sia, perché appunto, non avendolo neanche ritrovato nella serie, non so come definirlo, ma molto, molto, molto bello. Ora, adesso ci manca il nostro Zorua di Izui, che i Pokémon si sponano tutti quanti all'interno dell'ultra dimensione, però non so se in questo bioma controlliamo le varie battaglie, perché magari ci spona qua dentro, e non lo sappiamo. Sto risvolazzando in aria. Lo sento. Sento che sto svolazzando in altezze incredibili, proprio dalle orecchie lo sento. E infatti a che altezza sono... Sono all'altezza... No, vabbè. Si è perduta la sfida, per questo motivo impazzisco. Sono all'altezza 700. Devo assolutamente togliere l'Elytra appena atterro, perché sennò ho un problemone. Ok, e vabbè. Altri Pokémon, perfetto. Perfetto, possiamo tornare alla ricerca, anche se manca poco tempo, in realtà. Uh, eccolo Zorua! Che bellino! È quello di Izui. Eh sì, è quello di Izui. Ottimo! Con Zorua facciamo 3 su 3, anche nel secondo round. Andiamo a scoprire le ultime due carte. Terzo e ultimo round. Andiamo assieme a scoprire queste carte. Allora, ultima carta. Questo cos'è? A allenatore. Quindi saranno solo due carte a cercare nell'ultimo round. Bene, abbiamo come questa carta Baltoi. Va bene, ok. Interessante, è un Baltoi. Ma a noi ci interessa l'ultima. Ultima carta. Andiamo a girare assieme. 3, 2, 1... No, no. Ragazzi, questa entra di diritto nella carta più bella che io abbia mai trovato dei Pokémon. È bell... Senza parole è bellissima! Non l'avevo neanche mai vista! Stora è quasi V-Max spaziale. Bene, non so quanti soldi valga. Credo valga tantissimi soldi questo Rayquaza. Ma andiamo a cercarlo nella Pixelmon. Bellissimo! Le ultime due carte sono bellissime! Vabbè, a parte il Baltoi che in realtà non è che sia speciale. Ma questo Rayquaza trovato all'ultimo è una delle carte più belle mai trovate. 5 minuti di tempo e quello che ci interessa a noi è trovare assolutamente una Sunflower Plains perché c'è un raid nell'oceano. Va bene. Dicevo, dobbiamo cercare una Sunflower Plains perché sennò Rayquaza non può spawnare. Però non è semplice. È un gran problema perché devo continuare a svolazzare fino a quando appunto non trovo sia una Plains che poi abbia all'interno magari tutta quanta una zona con tutti i fiori di Minecraft. Mi tipo in un punto a caso. Vediamo se troviamo qualcosa in queste zone. No, oceano pieno. Ma perché? Uh, però qua c'è una pianura. Calma, mi sono completamente tipato a caso. Dobbiamo controllare se riusciamo a trovare magari una Sunflower Plains. Qua ci sono i coralli. Però facciamo così. Iniziamo già a cercare il Baltoin. Almeno ce l'abbiamo qua nelle Plains e sappiamo che si trova qua in giro. Rayquaza è un po' più difficile. Per adesso non ci sono mai spawnati leggendari da quando siamo all'interno del mondo. Quindi se riuscissimo a trovare quel bioma sarebbe molto utile per aumentare la probabilità di trovare un leggendario che spawni nella sua forma speciale. Però ovviamente non è detto. Una volta siamo stati fortunatissimi che ci ha spawnato un leggendario in questi video. Però non è sempre Natale, ragazzi. Quindi attendiamo un attimino. Il Baltoin dovrebbe spawnare all'interno delle Plains. e quindi qua siamo in piena Plains. No, in Forest qua siamo. Serve una Plains. Ho anche le Forest spawn a Baltoin. Quindi in realtà dovrei essere in un posto tranquillo. Dai, siamo qua nella Forest e vi pare che me ne spawnano due, uno al 22 e uno al 24 ma normali perché sono completamente uguali a questa carta. Ci ho spawnato anche un Rattata che è alto quanto un player di Minecraft. Mi pare un po' esagerato questo Rattata. Però ci stia, ragazzi, che spawnano magari i Pokémon che sembrano giga enormi. Raticate che è più piccolo del Rattata di prima. Ok, difficile. Questi qua sono i Baltoin di prima. Sì, 22 e 20. Questo è diverso! Che figo! Eh, vabbè, ci sta. Ci sta che spawnano così uno a fianco all'altro, ragazzi. Bello. Il terzo era quello speciale. Si vede più o meno la percentuale di spawn dei Pokémon speciali quanto è alta rispetto ai mondi normali. Darling, non mi interessa. Ora ne devi cercare per forza la Sunflower Plains. Sembra impossibile che in questa Plains gigantesca non ci sia neanche un minimo angolo di Sunflower. Però è così, purtroppo. Ragazzi, il tempo purtroppo è terminato. Rayquaza non siamo riusciti a trovarlo per che altro perché dovevo essere fortunato con i biomi e non ho trovato il bioma dove spawna. Però è un po' un peccato ma comunque abbiamo trovato una carta che vale tantissimi, tantissimi soldi. Noi ci possiamo fermare qua. Ci salutiamo e non devo regalare il Charlie Sardamarci perché ci mancava un solo Pokémon per far sticchie che l'avremmo dovuto regalare. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!